Stai ascoltando un podcast? Rizzoli Education! I Nobel che ci hanno cambiato la vita 2016, Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart e Bernard Feringa Immaginate di pilotare una macchina elettrica, una di quelle che si guidano da lontano, che con un joypad si possono spostare e direzionare. Immaginate ora che quella macchina si rimpicciolisca sempre di più fino ad assumere dimensioni non più visibili a occhio nudo. Immaginate infine che quella macchina piccolissima possa essere adesso pilotata all'interno di un corpo umano e direzionata verso una singola cellula per curarla. Ebbene, se oggi siamo in grado di pensare e persino di provare a realizzare ingranaggi di questo tipo, è grazie al lavoro di Jean-Pierre Sauvage, James Fraser Stoddart e Bernard Feringa, tre scienziati che per decenni sono stati alla guida delle macchine più piccole del mondo, le macchine molecolari. Le macchine molecolari sono macchine che appartengono al nanomondo, un mondo in cui gli oggetti si misurano in nanometri, la miliardesima parte del metro. Un capello umano, per esempio, è spesso circa 50.000 nanometri, un globulo rosso è grande circa 8 nanometri, il raggio di un atomo misura circa 0,1 nanometri. Nel nanomondo, per costruire una macchina molecolare, si utilizza un approccio molto simile a quello che gli ingegneri adottano nel mondo macroscopico. Certo, c'è qualche differenza che complica un po' le cose. La prima è che al posto dei componenti del motore, nelle macchine molecolari ci sono le molecole. La seconda, nel mondo dell'infinitamente piccolo, la forza di gravità, che sovrasta il mondo macroscopico, lascia spazio ad altre forze, come quelle di Van der Waals. Queste forze dipendono dal modo in cui la carica elettrica si distribuisce sulle molecole e da come queste ultime si orientano nello spazio. La terza differenza è che le macchine del nanomondo, a differenza delle macchine che tutti conosciamo, non si vedono. Il lavoro dei tre scienziati per mettere a punto le prime macchine molecolari è quindi certamente qualcosa di rivoluzionario, che apre a scenari fino a qualche decennio prima appartenenti alla fantascienza. Ascensori e muscoli molecolari, microscopi in grado di catturare l'immagine di singoli atomi, nano capsule che viaggiano negli organismi viventi per trasportare farmaci, con estrema precisione. Per la progettazione e la realizzazione di queste creature, Stoddard, Sauvage e Feringa ottennero nel 2016 il premio Nobel per la chimica. A fare il primo passo fu il chimico francese Jean-Pierre Sauvage, che negli anni Ottanta realizzò il primo catenano. Si trattava, come suggerito dal nome, di due molecole circolari, legate permanentemente fra loro, non attraverso uno o più legami chimici, come di norma avviene tra molecole, ma meccanicamente, proprio come le maglie di una catena. Fornendo energia al catenano, lo scienziato riuscì a far muovere gli anelli in modo indipendente, creando di fatto la prima macchina molecolare. Nel 1991, il chimico britannico Fraser Stoddard ideò invece il rotaxano, una molecola circolare attraversata da un piccolo asse. Stoddard dimostrò che l'anello poteva muoversi su e giù dall'asse come una sorta di ascensore molecolare. Tra le straordinarie macchine da Nobel di Stoddard e del suo gruppo di ricerca, si ricorda la sintesi del muscolo molecolare, in grado di piegare una sottile lamina d'oro, e il chip da computer molecolare. Il primo motore molecolare arriva invece nel 1999, dall'Olanda, grazie agli studi di Bernard Feringa. Il motore di Feringa era costituito da una singola molecola che, se esposta alla luce ultravioletta, ruotava in un'unica direzione e generava così una spinta. Con questo tipo di motore, il chimico è riuscito nel 2014 a spingere un cilindro di vetro 10.000 volte più grande. Le possibili evoluzioni tecnologiche delle macchine molecolari sono moltissime. Una fra tutte, la medicina di precisione, fatta di nanoparticelle che, come vere e proprie vetture, trasportano farmaci nei tessuti malati in modo rapido e intelligente. Seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di I Nobel che ci hanno cambiato la vita. Hai ascoltato un podcast? Rizzoli Education